Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, come avrete letto dal titolo, quest'oggi, il campionato italiano kike fishing in mare però siccome ho perso molti dei file che avevo di questa giornata, non ho idea del perché ho sommato le clip di sabato e domenica di entrambi i giorni di gara per fare un video unico dunque ragazzi, prima di partire col video vi chiedo due cose velocissime di lasciare like, iscrivervi al canale perché oltre il 70% di quelli che guardano il video non è iscritta ed è gratis quindi non vi costa niente e di commentare qua sotto con il vostro pesce preferito da prendere in mare dunque vi lascio al video buongiorno ragazzi eccoci qua il sabato, adesso si parte con la macchina e si va a caricare i caie eccoci stiamo arrivando è ancora sorgere il sole e noi li dobbiamo prepararci perfetto oi a colino a colino c'è un po' delle tiche strumenti e un po' di più c'è un po' di più Sì, sì. Grazie a tutti. 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 Yeah. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. Bello, bello, questo appare è un pesce di taglio, tipo un sarago, ma di taglio, esatto. Oh, ho rischito pienamente. Oh, ho rischito pienamente. Inzellotta Inzellotta Signorine non rubem conioni Bello 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 E' il pesciotto, ma non si sono niente Ecco, puri qua siete arrivati Io anche pensavo di essere scappato Un scerranetto Un panzellino Un po' diere 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 E' una bella pioggia anche Con la grassa Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info www.mesmerism.info Del nostro corso gratuito www.mesmerism.info Sì, grazie. Sì, grazie.